Abbiamo atteso finalmente le comunicazioni ufficiali perché ieri sera 28 marzo è stata approvata dalla quarta commissione la proroga al 30 di settembre per la presentazione delle fatture e delle spese relative alle uni familiari. Vediamo in questo video di cosa si tratta. Bentrovati amici abbiamo aspettato le comunicazioni ufficiali ma finalmente nella serata di ieri è arrivata la notizia della proroga al 30 di settembre per quanto riguarda la presentazione delle comunicazioni di opzione dell'utilizzo dei crediti inerenti le fatture 2022 per uni familiari monofamiliari che stanno proseguendo nella procedura di super bonus 110. È una notizia molto importante perché in questi giorni si è tentato anche di fare le corse ma naturalmente per coloro che hanno un primo sal al 30 di settembre c'era questa data assolutamente già prorogata perché abbiamo visto che è reduce di altre due proroghe però una data che sembrava appunto essere definitiva. Invece la notizia che può rassicurare gli operatori del settore appunto che abbiamo un po' di respiro e un po' di tempo per presentare queste comunicazioni che riguardano ripeto le fatture 2022 al 30 di settembre. Naturalmente la notizia è stata resa ufficiale quindi possiamo essere sereni sotto questo profilo ma la normativa entrerà in vigore quando ci sarà la pubblicazione in gazzetta ufficiale prevista per metà aprile quindi ben successivamente alla scadenza del 31 marzo. Si sta lavorando in sede parlamentare anche per altri emendamenti che propongono una modifica in sede di conversione del decreto legge 11 del 2023 cioè il decreto fondamentale in materia di super bonus che ben conosciamo. Ci sono altri video su quali abbiamo menzionato spesso e volentieri queste modifiche e in particolare l'altra modifica che diventa notizia importante della giornata è quella che riguarda la possibilità di strutturare una piattaforma per andare ad utilizzare i crediti in questo momento incagliati presso le imprese. Crediti sempre di imposta collegati alle procedure di super bonus 110. La proposta arriva per creare una piattaforma dove capofila sarebbe appunto Enelix unitamente ad altri istituti di credito intermediari quindi staremo sicuramente col piatto sospeso finché non conosceremo le novità in materia anche di questa piattaforma e di disincagliamento dei crediti ma naturalmente vi saremo presenti e vi faremo sapere sempre sui nostri portali e sui nostri social.